salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di fallout 4 bene prima di continuare a cover è andato un attimo a fare un po di quest con di minuteman per tirare su un po di reputazione nostro caro amico e siamo ho sbloccato la prima fase di dialogo che volevo fare con voi così vediamo un po cosa si dice se riesco a va tutto bene sì sì va tutto bene riguardo alla faccenda di bobby averti coinvolto non mi rende molto fiero di me quel genere di puttanate dittatoriali non è il mio stile ha provato a ingannare entrambi occuparsi di lei è stata la scelta giusta vero ma non cambia il fatto che sia fuori dai giochi per causa nostra quel genere di idiozie è il motivo per cui sono voluto diventare sindaco un coglione di nome vic ha governato la città per non so quanto tempo era un vero bastardo usava quelli come noi come suo salvadanaio personale aveva questo squadrone di energumeni per tenere la gente in riga ogni tanto allungava il guinzaglio e impartiva una bella lezione collettiva chi aveva una casa si chiudeva dentro a chiave ma noi una sera un reietto dice qualcosa a uno di loro lo hanno aperto sul marciapiede come una scatoletta di carne creme e noi lì a guardare senza fare niente non devi sentirti in colpa erano in tanti forse avrebbero ucciso anche te hai ragione ma è stato da autentici bigliacchi mi sono sentito meno di niente dopo mi sono fatto così tanto che ho perso il senso della realtà quando mi sono ripreso ero sul pavimento del vecchio ufficio governativo davanti al vestito di john hancock john hancock primo americano contrabbandiere e difensore della gente forse ero ancora un po fuori ma quei vestiti mi parlavano mi dicevano cosa dovevo fare così ho rotto il vetro li ho messi e ho cominciato una nuova vita come hancock sono rimasto pulito per un po mi sono organizzato e ho convinto clio a prestarmi un po di materiale ho messo insieme un gruppo di reietti e ci siamo diretti alle rovine per allenarci se gli uomini di vixi fossero fatti vivi avrebbero avuto pane per i loro denti dunque cosa gli diciamo un individuo simile capisce una sola cosa la violenza hai fatto bene sapevo che avresti capito una notte ci siamo preparati gli abbiamo lasciato sguinzagliare i suoi bestioni e li abbiamo aspettati dietro le finestre e sui tetti del nostro nascondiglio non se ne sono accorti non dovevamo sparare neanche un colpo non era necessario ma poi cazzo se l'abbiamo fatto è stato un massacro dopo averli sistemati abbiamo raggiunto gli alloggi di vick nell'ufficio governativo gli abbiamo messo una corda al collo e l'abbiamo buttato dalla finestra e io lì con la pistola in mano e i vestiti di hancock addosso a osservare gli abitanti di good neighbor radunati lì sotto dovevo dire qualcosa e quando l'ho detto la prima volta forse non l'hanno neanche capito della gente per la gente è stato il mio discorso inaugurale quel giorno sono diventato il sindaco di good neighbor e da allora ho giurato che non sarei più rimasto a guardare mai più wow e così sarà ci prenderemo cura del commonwealth insieme bene spero che tu abbia capito che tipo di persona sono non voglio fare del male a nessuno che non lo meriti e sento che anche per te è la stessa cosa ok forse per oggi ti ho annoiato abbastanza che dici andiamo abbiamo sblocato la prima linea di dialogo molto interessante questo contesto che ci ha raccontato io continuo a fare un po di quest dei minuti per sbloccare la seconda linea di dialogo ci vediamo fra poco bene sono tornato al covenant ho fatto un po di esperienza con il nostro amico ma non sono riuscito a sbloccare la seconda linea di dialogo pazienza abbiamo lato nuovo ti do il benvenuto avanti dicevo e vediamo di salvare condendo qualcosa lo sento lo so purtroppo ancora non posso avere accesso alle informazioni perché ho dato via ma che culo direi perfetto andiamo pure vedere che non sia qui e vediamo un po se riesco a accedere al terminale tramite password c'è tre bello sono contento file del personale di gerald ok dopo me lo leggo perché dato qui sicuramente qualcosa dice davanti finché non mi dice lui qualcosa questo è molto interessante perché sicuramente si capirà cos'è che tramano poi vediamo giù ok sarà l'ultimo no allora sarà l'altro rapporto del pescatore bozza vediamo un po esatto trovo l'ubicazione del recinto ok parla con denulo onesto ottimo finalmente abbiamo trovato qualcosa qualche indizio adesso me ne vado anche se volevo leggere un attimo questo cosa dice rapporto safe volume v insomma 11.3 percentuale di errore del 28 per cento delta un per cento meno un per cento servono più campioni di dati viandanti senza nome 2 un errore registrato gol dello slog 5 un errore trattarsi di un falso positivo carovara di stottom 52 errori risultati e rolled o istituto oddio non l'ho visto per vabbè poter dopo lo leggerò e figuriamoci se non ti piaceva qualcosa vabbè dai allora lo carico e quello lo lascio lì e siamo a posto a lui non piace molto se rubiamo non rubo mai perché questa è una situazione un po così adesso possiamo parlare con lui oggi grazie vediamo lei jane hai scoperto qualcosa della carovana ovvio hanno portato i superstiti in un posto chiamato recinto allora possiamo procedere ci vedremo la e salveremo i membri della carovana o bella questa allora vediamo dove va questo recinto che sono abbastanza curioso e tra qui e qua qui ci possiamo andare piedi venissi co cosa jacob ehi sai non è certo un segreto che stai ficcando il naso dappertutto non lo trovo molto carino personalmente so che credi di fare la cosa giusta però ti consiglio di non prendere decisioni di cui potresti pentirti senti vedi di parlare chiaro forse hai sentito parlare della carovana di stockton e di un certo recinto diciamo che per ipotesi ci sia qualcosa di vero noi non faremmo nulla senza un motivo valido più che valido senti facciamo così lascia perdere questa storia e ti faccio un regalo 100 tappi ame le faccio anche tornare qui quando vuoi senza alcun problema allora non ho capito non si capisce un cazzo da queste risposte i ripuliti tappi vuol dire non me ne faccio niente oppure sì ci sto senza che tu vi paghi perché non è chiaro puoi tenerti i tuoi tappi in questa città c'è qualcosa di sospetto e non scopriremo cosa per favore vai via qui ci sono in ballo cose che non puoi comprendere ok ci la siamo calata bene andiamo pure in questo posto vediamo un po che succede perché sono abbastanza curioso io vado in acqua tanto sono immune per il momento e quindi dopo il gula anche perché non penso a vedere problemi vediamo un po che succede tanto manca pochissima gli è piaciuto fatto il bagno gli è piaciuto mi fa piacere che ti sia piaciuto con tutti punti guadagnati per carità non è che si entra sì o interessante e chi l'avrebbe mai detto spero sia questo sì zero dice che qua bene abbiamo un po tutto nuovo però è mai fatto questa questa c'è che eventuali supersti sulla caravana bene stanno nascondendo qualcosa lo sento mei den ci sono delle persone più avanti ti seguo ok abbiamo fuori l'arma carichiamo mettiamoci un po e stealth non sembrano non può avvenire nessuno che cosa vuoi parlare prima di sparare mi viene fuori la linea di dialogo ok salviamo risposte non violenza troviamo così e volevo salvare sono qui per salvare i superstiti della carovana stockton mi spiace ma non è possibile niente di personale ok proviamo no 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 aspetta proviamo visto che abbiamo il carisma al massimo vorrei provare a vedere se posso evitare tanto mi interessa ormai uccidere voglio solo delle risposte su quanto è accaduto alla carovana di stockton niente di più va bene ti porterò dalla dottoressa chambers lei vedrà cosa fare ecco già va molto meglio cosa dite io ho avvisato non ho letto pazienza e la e la tv volevi decidere prima poi è la vabbè diamo pure salviamo con un nuovo sale perché non si sa mai voglio scusate e vediamo un po cosa succede sì ci sto aspettando quindi ha fatto due salve oh salve blight ehi blight tortura distanzi dammi il segnale sì che c'è manny pensavo che aveste finito con il soggetto 12 oh sì l'interrogatorio è finito sto solo rivedendo i dati sulla domanda 4 sono davvero interessanti sì senza dubbio certamente non ho capito un cazzo però vabbè sul soggetto 12 potrebbe essere un sintetico però non è detto adesso vediamo e si dà una mossa è lento questo uomo lento non si apre da questo lato almeno così scoppiamo la storia perché se avessi ucciso tutti probabilmente molto della storia non l'avrei capito invece così abbiamo la possibilità di scoppiare qualcosa certo che si stesse una mossa l'avrei gradito alquanto magari poi sono buone ma capire oh interessante benvenuti al recinto è la prima volta che qualcuno entra qui ah beh mi fa piacere insomma sì una porta dove porta questa porta? non si sa ancora per il momento stiamo cauti ecco se io non l'avessi ucciso probabilmente non sarebbe stato possibile passare o almeno non così semplicemente vediamo un po' io esploro intanto tanto lui ci mette una vita e qui c'è una porta sbarrata eh bel problema ehi là eh io farei qualcosa se vuoi ciao non fare scherzi ecco ok si è sbloccato meno male ma accendiamo la luce tanto ormai non dovresti essere qui oh ho dato una piccola spinta vai ok certo che è un bel casino eh ehi là ecco e si è messo ai coglioni vediamo un po' ehi là ehi là oh si è andata una mossa ecco almeno ho capito dove andare se no io andavo di qua figuriamoci e se si è ancora la porta famosa sbloccata aspettate non ho visto nessuno niente vero ok perfetto vediamo vediamo bene oh qui la luce c'è e c'è una signora così ecco qui la persona che indaga sulla carovana di Stockton almeno lo sai che la sua presunta figlia è quasi sicuramente un sintetico non importa guarda sarò molto chiara questo incontro può finire in due modi o troviamo un accordo o la parola passerà alle armi ah d'accordo d'accordo certo che se mi fai parlare lo gradirei ok preferisco la pace io preferirei una soluzione pacifica vale anche per me ti faccio una proposta cosa faresti se la tua famiglia fosse stata distrutta da un sintetico davanti ai tuoi occhi in tenera età te ne faresti una ragione e accetteresti la cosa oppure cercheresti di fare qualcosa che ti è successo? a Diamond City molto tempo fa i miei genitori e altre otto persone sono stati massacrati da qualcuno all'inizio pensavamo che l'assassino fosse umano poi invece abbiamo scoperto l'ultima creazione dell'istituto i sintetici finché l'istituto camminerà fra noi senza che nessuno se ne renda conto colpirà senza preavviso e ci controllerà dall'ombra ho dedicato la mia vita a elaborare un test che consenta di scoprire i sintetici nascosti per localizzarli ed eliminarli non vale la pena di combattere per questo? sono contro il genocidio dei sintetici sintetici scusa non dirmi che avete davvero intenzione di uccidere tutti i sintetici certo che vogliamo farlo prima però dobbiamo scovarli un sintetico vivente è identico a un essere umano nessun test medico è in grado di identificarlo però a quanto pare la psicologia consente di cogliere delle differenze per questo ho creato il test safe il test è ancora in fase di sviluppo ma grazie al sacrificio e alla costanza la sua percentuale di affidabilità sta aumentando e il test safe funziona? oh certo le autopsie confermano che il test sta diventando più affidabile ah beh le domande c'è qualcosa che provoca una reazione da parte dei sintetici ma ancora non sappiamo bene cosa sia il margine di errore è ancora elevato 4 o 5 falsi positivi per sintetico ah beh ma un giorno speriamo di farlo scendere a 1 o 2 falsi positivi condanna la tortura cosa significa? eh condanna la tortura vuol dire che sono contro la tortura o vuoi condanna... ma i vostri metodi sono barbarici voi torturate la gente per migliorare il test safe i soggetti analizzati devono subire un'intensa pressione psicologica non è una cosa piacevole ma è necessario Covenant è un posto importante è un rifugio per quelli che hanno perso tutto a causa dell'istituto un posto sicuro in cui guarire ma è soprattutto la nostra unica possibilità di porre fine a quest'era di paure facciamo un patto se mi permetti di eliminare il sintetico di Stockton e di continuare il nostro lavoro ti pagherò qualsiasi ricompensa ti sia stata promessa ho già visto abbastanza assurdità in questa storia te lo scordi per fortuna non stavo parlando con te se ti metti dalla parte di questa pazza beh fra noi ci sarà un grosso problema allora non posso accettare la pagherai per tutto il dolore che hai causato allora dovrai uccidermi non dover eh io ho provato a evitarlo ma a quanto pare non c'è stato verso purtroppo a meno le missioni devono essere protette ne vuoi ancora? a meno abbiamo capito cosa è successo vabbè abbiamo capito che dobbiamo fare una uh interessante dobbiamo fare una strage massonica vediamo il favore ci da lei munizioni spiedino non è che avesse tanto secondo me è stata la soluzione migliore che potessimo fare perché non era giusto quello che stavano facendo e quindi sì allora cosa mi ammira eh questa è una cosa buona adesso andiamo a aprire se ci riesco perché è ardua porca miseria non riesco a trovare ecco la finestra fantastico vero? tutto questo per questo beh mi sembra un po' una schifezza eh e qui cosa c'è? beh intanto faccio punti per carità eh più che altro se gli piace a lui là il problema vediamo un po' se lo trovo non trovo la finestra acciditi ardua e ardua eh non è che dirlo ok ce l'ho fatta ho trovato la finestra perfetto bene e non c'è un cazzo le missioni devono essere protette ah qua c'era qualcuno oh salve signorina però prima che lei venga uccisa vorrei porre fine oh interessante tante cose da fare vediamo un po' buono 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 allora prima di andare a liberarli devo vedere se qui hanno finito vendevo qualcosa l'intruso deve essere ok è quello che volevo dire perché è l'utile che è libero e poi questi muoiono tutti ok vado eh perché se no è un casino c'è qualcosa là fuori qualcosa o qualcuno ragazze loro sono andati accidenti a loro vabbè dai adesso andiamo là oh salve ok questa è andata e ovviamente la porta è sbagliata è certo che si si mi togliete al cazzo io magari passo ecco qua ok e qui si perché c'era la dottoressa eccetera eccetera allora dobbiamo fare due cose uno liberare la tipa e l'altro leggere qua quindi vediamo qua cosa dice che è più facile allora messaggio archiviati squadra di recupero pronta ok ho letto velocemente bene o male diceva quello che c'è detto la dottoressa ho sbloccato la cella adesso sblocco le varie celle e così siamo a posto e adesso andiamo io sono libera sei libera eccoti qua tu dai beh 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 rilassata voglio parlarti grazie infinite prego pensavo che non sarei mai uscita di qui ok andiamo con lui ti fai parlare lo so che c'è altro vai bene a nasconderti è finito ehi Dan così Stockton riavbraccia sua figlia e noi intaschiamo il compenso niente male come giornata siamo una bella lavorare con te è stato un piacere sono stato felice di averti dalla mia parte ecco la tua parte della ricompensa io prenderò la mia da Stockton beh è stato un piacere eeeh a vicuna di te Dan lo stesso vale per te ok è andata bene dai mi ha fatto un sacco di voti abbiamo livellato abbiamo capito un po' che è successo su tutte le cose che mi sono piaciute io vado a esplorare un po' poi se c'è qualcosa nel prossimo video ve lo faccio vedere o ve lo dico e quindi per il momento vi invito se mi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate e poi adesso vi do assoluto la sciva ciao ciao ciao